Buon viaggio ancora dalla redazione di Firenze Smart in studio Mauro Ciutini. Code per un incidente, siamo in A1 tra Valdarno ed Arezzo, la direzione è quella per Roma. Sempre in A1 direzione Firenze, tra Sassomarconi e il BV A1 variante di Valico, un veicolo è fermo. Ci spostiamo sulla Firenze, Pisa e Livorno, segnalati materiali dispersi tra Empoli Ovest e San Miniato, direzione Livorno. Lavori di pavimentazione in A1 dalle 22 di venerdì 16 alle 6 di sabato 17, chiusa la stazione di Chiusi-Chianciano verso Firenze in uscita per chi proviene da Roma, in alternativa a utilizzare l'uscita valdichiana. Veniamo ai treni, la regionale 41-29 Pisa-Roma viaggia con 21 minuti di ritardo per lavori programmati nella stazione di Orbetello. È tutto grazie a Regione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze. Grazie a tutti.